Ben ritrovati, buon lunedì e buon Crypto Monday. Quest'oggi, dopo Natale, si apre Coin360.com con tutt'altra atmosfera. Infatti da rosso della settimana precedente ci troviamo in una situazione con una schermata prevalentemente in verde, quasi tutto in verde rispetto a 7 giorni fa con BTC che risale del più 8.5%, Ether che fa un più 3.35% e tante altre monete che vanno anche su rialzi a doppia cifra. Adesso vediamo il quadro generale soprattutto su CoinMarketCap che innanzitutto ci fa vedere una capitalizzazione totale che risale e va verso i 2.400 miliardi di dollari con la dominanza di Bitcoin che invece torna ad abbassarsi un pochino, infatti nonostante il rialzo sia importante che quello settimanale, il rialzo delle altcoin è stato ancora più importante, quindi sia BTC che Ether scendono un pochino e in questo momento valgono una il doppio dell'altra con G-Way che è stato molto molto contenuto durante le feste proprio per la poca operatività e come dicevo tanti rialzi sulle altcoin. In questo che sarà l'ultimo lunedì dell'anno andiamo a vedere un più 80% su Nier, un più 76% su Phantom, un più 66% su Aave, un più 55% su Cadena, più 50% su Osis Network e Rose, più 50% addirittura in una settimana anche per Sushi, Teta, Audio e anche Atom con Cosmos che fa un più 45%, Engine più 43%, Zillica più 43%, Carve più 41%, Sand un altro 36% dopo comunque la salita che c'era stata già nel periodo passato, stessa cosa per Matic più 35% e di qui farò un piccolo focus perché c'è una novità molto importante, tra l'altro ho fatto un video per cui secondo me, secondo la mia e il mio parere questo è stato il progetto che personalmente mi ha impressionato di più in quest'anno 2021, cioè che cosa vuol dire? Io nel 2020 non avrei mai detto che nel 2021 avrei messo così tanto focus proprio su Matic perché poi non c'era proprio in programma neanche il cambiamento di rete e fare questa commit chain con questa rapidità con cui è stata sviluppata. Helium 36%, Torchain Rune 35%, Yota 34%, Chiliz 32%, Dot 32%, Mina 32%, Poi Icon, Cardano un altro 30%, Harmony, Shiba che sale, Terra fa un ulteriore 30% nonostante sia stato un anno mostruoso per la stessa Terra Luna, Basic Attention Token 28%, Monero 27%, così come Cielo 27%, Link 26%, Ravencoin, CRO 26%, Compound 27%, come vi sto facendo vedere le monete che hanno fatto un rialzo superiore al 25% sono davvero tante, questo a dimostrazione del fatto che questo bull market non è ancora terminato o quantomeno dovremmo capire in che fase ci troviamo, il tutto viene sempre relazionato su un precedente ciclo, quindi ci aspettiamo dei movimenti simili a quello che successe in passato, bisogna capire se effettivamente sarà così anche questa volta, a mio modo di vedere le cose non si ripetono mai come nel passato, se così fosse questo sarebbe un segnale negativo, devo essere sincero perché nel 2017 dopo il grande all time high di Bitcoin a dicembre verso i 20.000 dollari, poi cosa successe? Bitcoin calò un po', cosa che è successa anche adesso se dovessimo considerare il suo all time high a 69.000 dollari, ci fu la crescita di tante monete alternative a Bitcoin, le cosiddette altcoin, quasi tutte le altre cripto che fecero dei rialzi incredibili entrando in una fase intensa di altcoin season che portò poi alla bolla definitiva scoppiata attorno alla metà del gennaio del 2018, quindi questo sarebbe lo scenario se le cose dovessero ripetersi in modo simile, cosa che secondo me non avverrà, però chissà, non ho di certo la sfera di cristallo, andiamo a vedere invece a livello di andamento, perché poi il trend va sempre misurato su Bitcoin stesso, quello che sta succedendo, se dovessimo guardare le finestre temporali ad una settimana, ovviamente come appena detto questa sarebbe una settimana con trend rialzista, in particolare abbiamo avuto un rialzo molto importante, il 23.000, nel trend ad un mese, nella finestra temporale ad un mese invece il prezzo è un pochino più basso, infatti un mese fa si chiudeva a 54.957 dollari, quasi 55.000, il trend a tre mesi è invece ancora positivo e questo come vi ho detto più volte, secondo me è la finestra temporale sulla quale dover capire in che fase, in che trend ci troviamo, ovviamente si può capire se è ribassista anche nell'andamento dell'ultimo periodo di questa finestra, ma in generale osservandola in questo modo possiamo capire se ci troviamo in un trend ribassista, quindi bear market confermato, dal mio punto di vista avendo avuto tre mesi fa il prezzo di 41.000 dollari ed ora essendo attorno ai 50.500 ci troviamo ancora in una buona fase per quanto riguarda Bitcoin ed essendo questo quello che pesa il 40% di tutto il mercato, anche del mercato in generale. Un anno fa il prezzo cominciava a salire in modo molto importante, infatti dopo Natale cominciava la sua scalata verso quel nuovo all time high che poi è stato raggiunto più e più volte perché una volta rotto il muro dei 20.000 che era il precedente poi ogni nuovo rialzo era un all time high e anche qui, anche se adesso lo percepiamo molto basso, i 27.000 era un prezzo elevatissimo solamente a ridosso del Natale scorso. Andando a fare uno zoom in invece, qui coppia BTC-USD su Coinbase di analisi tecnica, ecco che i prezzi diventano molto molto più alti e andare a guardare a quello che era un anno fa ci sembra essere veramente in una fase preistorica quindi se dovessi andare, eccolo qui, il 27 dicembre 2020, in questi rialzi dove il prezzo era attorno ai 25.000-26.000 dollari ci troveremo a metà di quello che vale oggi in un livello che in questo momento rappresenterebbe una catastrofe, un crollo reale del prezzo. Mentre invece ci troviamo in questo momento in una posizione abbastanza interessante ma al contempo delicata in quanto il prezzo si riaffaccia all'interno di una fascia che va dai 50.000 dollari ai 55.000 e solitamente Bitcoin quando entra in una fascia di prezzo importante inizia a fare ranging ossia si muove andando a rimbalzare da un supporto che è la linea di prezzo verso il basso a una resistenza per poi provare a romperla oppure essere respinto e tornare dentro come ad esempio in questa fascia qui quello che succede in questo momento invece è diverso abbiamo visto molta volatilità e probabilmente questa volatilità sarà confermata per tutto il periodo delle vacanze mi aspetto questo in quanto l'operatività è molto limitata c'è poco trading questo comporta che con poca liquidità ci potrebbe essere più manipolazione con più manipolazione basterebbero delle operazioni mirate in un verso o nell'altro per portare i risultati decisi da qualcuno quindi si potrebbe andare a manipolare effettivamente l'andamento e la direzione di Bitcoin nel breve termine poi nel lungo termine il suo percorso va a far sì che determinati andamenti diventano rumore vengono cancellati e si costruisce una linea un po' più definita magari qui dovremmo andare a vedere ad esempio il grafico totale in versione logaritmica e questo sarebbe l'andamento che poi cancella molto dei rumori di cui sto parlando in questo momento molto interessante comunque è osservare le medie mobili a 200 quindi la media del prezzo degli ultimi 200 giorni che diventa una sorta di barriera o supporto a ribasso del prezzo ed è qui che secondo me dovremmo vedere se il prezzo terrà per mantenere il trend a rialzo e il mercato a rialzo quindi 47.500 dollari in questo momento e una resistenza verso l'alto che è posta proprio dalla media mobile a 50 periodi quindi il prezzo medio di Bitcoin negli ultimi 50 giorni a 54.500 dollari a mio modo di vedere se i tori dovessero prendere in mano la situazione e la forza di chi voleva vendere si è andata veramente ad esaurire a quel punto delle candele importanti potrebbero riportare il prezzo sopra questa media e se questo dovesse avvenire potrebbe andare ad indicare una nuova bull run ma ovviamente qui che questo scenario avvenga non ce lo può dire assolutamente nessuno e dipende da alcune persone come detto quindi non è leggibile da qualche grafico attenzione a questo periodo in tutti i mercati c'è poca operatività quindi con scarsi volumi, con volumi molto piccoli i movimenti di prezzo in un mercato così che è comunque molto piccolo potrebbero essere molto molto repentini e molto volatili andando ad osservare quello che sta succedendo invece a livello di analisi on-chain qui è il bilancio di tutti gli exchange in percentuale possiamo vedere quanti Bitcoin sono depositati al momento in percentuale il 13%, 13.5% è depositato su tutti gli exchange quindi siamo tornati un pochino a salire ma non c'è un trend netto che ci va ad indicare un nuovo deposito da parte degli holders sugli exchange è avvenuto a tratti ma poi c'è stata comunque un po' di volatilità anche da questo punto di vista in passato quando ci si preparava a degli scossoni, a delle vendite importanti come è avvenuto a maggio di quest'anno si è visto proprio un trend di deposito sugli exchange molto molto più evidente in corrispondenza, anzi un piccolo, un po' in anticipo rispetto alla discesa del prezzo ovviamente un po' in anticipo perché per poter far scendere il prezzo si devono vendere Bitcoin per poter vendere Bitcoin si devono depositare su qualche exchange questo non sta avvenendo anche se comunque l'indecisione generale su quello che sarà l'andamento del prezzo porta a un'indecisione anche a livello di prelievi e depositi con un trend leggermente verso il deposito sugli exchange quindi attenzione perché un piccolo allarme potrebbe arrivare quindi è da monitorare, lo vedremo nel prossimo anno il prossimo lunedì vedremo quale sarà la situazione andiamo ad osservare 5 cose importanti da tenere in considerazione questa settimana l'ultima del 2021 che ricordo essere stato l'anno post-Alvin quindi in generale per Bitcoin uno degli anni più bullish, più importanti che c'è a mio modo di vedere la delusione tra virgolette che ci porta un prezzo a 51.000 dollari è che quasi tutti avevamo in testa dei livelli molto più alti e quasi tutti avevamo in testa i 100.000 dollari perché altrimenti 51.000 dollari è un prezzo davvero importante come detto bisogna stare attenti perché la stagione delle vacanze riserva delle sorprese dal punto di vista di volatilità nonostante Bitcoin per ora è calmo e qui ci dice possibilmente anche troppo calmo quindi attenzione alla volatilità questo lo dico soprattutto per chi va ad operare con posizione in leva magari chi ha intenzione di accumulare più Bitcoin facendo del trading in questo momento è molto molto rischioso perché è difficile leggere veramente qualche analisi e la manipolazione potrebbe colpire in qualsiasi direzione in qualsiasi momento degli analisti ci indicano delle fasce ancora più ampie di quelle che ho descritto io addirittura un massimo dai 58.000 dollari una resistenza di 58.000 dollari e un supporto ai 32.000 come dicevo probabilmente l'aspettativa ci ha ingannato un po' tutti in molti me compreso avevano comunque un'aspettativa di questo tipo andando anche a considerare delle proiezioni portate da alcuni grafici come ad esempio lo stock to flow stock to flow che andava a segnalare un evidente livello attorno o superiore ai 100.000 dollari cosa che ancora non è stata raggiunta e la nostra testa ci riporta a quello che conosciamo quindi i due precedenti cicli nei due precedenti cicli questo picco, il picco del prezzo avvenne proprio nel finale dell'anno attorno a dicembre e tutti ci aspettavamo la stessa cosa vero è che è stato un anno del tutto anomalo gli altri anni non ci sono state pandemie durante una burran non c'è stato quello che abbiamo visto quest'anno e evidentemente la situazione di inflazione che abbiamo vissuto ha anche condizionato molto il tutto queste non vogliono essere giustificazioni anche perché in realtà non c'è nulla da giustificare dobbiamo renderci conto che lo storico era di soli due precedenti e non è definibile storico quindi soprattutto vale una regola quando tutti si aspettano qualcosa nei mercati probabilmente quella cosa non avviene per quanto riguarda Plan B lui è ancora convinto che i suoi modelli siano validi avendo costruito comunque delle bande che ancora vanno a delineare in modo corretto quello che è un andamento ovviamente più allargato meno preciso ma non è stato ancora invalidato se consideriamo la deviazione standard di queste bande vero è che Plan B stesso era molto convinto che saremmo arrivati entro dicembre 2021 a livelli di prezzo superiori ai 100.000 dollari e una fascia compresa tra i 100.000 e i 288.000 che infatti sono i suoi due modelli il modello Stock to Flow di base che ci fa una proiezione su quel livello lì a 100.000 e il modello Stock to Flow X che invece paragonandolo ad altri asset scarsi come ad esempio l'oro e l'argento lo poneva attorno ai 288.000 lui ci dice secondo la mia opinione la mia umile opinione siamo nello spot nell'esatto stesso punto in cui ci trovavamo a marzo 2019 quando ho pubblicato il mio modello Stock to Flow e lì Bitcoin si trovava su un livello che toccava la banda inferiore del mio modello di prezzo lo vediamo in questo momento qui in questo momento lui pubblicava lo Stock to Flow effettivamente aveva disegnato comunque la sua traiettoria che già era discostata sin dal momento in cui disegnava il modello di proiezione e poi abbiamo visto come Bitcoin si è ripreso andando ad ondeggiare proprio attorno a questa traiettoria chi va a criticare in modo pesante questo modello deve considerare che comunque è un modello che per tre anni ci ha dato la direzione e questo è quel che conta non è un modello preciso non ci dirà mai quanto vale Bitcoin in un giorno esatto ma più o meno ci dà un'idea di quanto potrà valere Bitcoin nel tempo quindi se tre anni fa qualcuno avesse detto Bitcoin potrebbe valere 50.000 dollari nel 2021 probabilmente avrebbe dovuto gestificare con basi molto meno facili da vedere rispetto a un modello di questo tipo che in realtà ci ha dato quell'idea e forse ci ha dato un'aspettativa anche troppo alta ma chissà perché come detto finché il modello non viene completamente invalidato questa linea blu potrebbe essere nuovamente raggiunta e poco conta lo sia stato fatto in un determinato momento o in un altro a meno che non avevamo delle posizioni da trading personali ma quello è un discorso diciamo molto molto personale e non bisognerebbe basarsi su un modello di questo tipo la situazione che ha cambiato di più il contesto rispetto ai presenti cicli è stata quella di avere molto molto posizionamento in leva infatti l'accumularsi della narrativa asset da trading per quanto riguarda Bitcoin e tutte le altre crypto negli anni si è andata ad accumulare quindi in molti prendono questo ecosistema l'ecosistema crypto come qualcosa altamente speculativo e quindi su cui speculare perché che sia altamente speculativo non vuol dire per forza che sia un qualcosa sul quale ci si debba per forza speculare o quantomeno speculare e basta invece la maggior parte delle persone comunque si avvicina a questo contesto e lo ritiene uno strumento per fare del trading quando invece tanti ecosistemi nascono per tutt'altro motivo e anche Bitcoin non nasce per far trading lo vediamo scritto già nel suo white paper se poi si salta quella fase non si legge e non si approfondisce ovvio che si prende per come viene raccontato l'attrattiva di fare tanti soldi in poco tempo è comunque un'attrattiva molto forte sull'uomo e nonostante questo sia un asset cresciuto di migliaia di volte in poco tempo questo non basta e si vuole sempre di più quindi il posizionamento ad alto rischio con leve ancora più grandi è stata una leva appunto su tutto il settore che porta una volatilità molto molto pericolosa per chi ha questi posizionamenti e in questo momento dopo le grandi liquidazioni sembrerebbe essere tornata la situazione su un momento più tranquillo si sta nuovamente riaccumulando il quantitativo posizionato appunto long visto che sembrerebbe esserci una ripresa ma allo stesso tempo la situazione è abbastanza neutrale molto molto diversa rispetto a solo poche settimane fa in cui invece si era andata a creare una confidenza troppo forte sul fatto che saremmo andati verso una burranna a fine anno e quindi molti siano posizionati long ecco quelle posizioni sono state quasi tutte liquidate nel calo drastico che c'è stato e adesso siamo in una situazione molto molto più sostenibile basterebbe in realtà molto poco per portare su il prezzo per quello bisognerebbe capire che intenzione hanno le varie balene di questo settore o se c'è qualcuno che sta già pianificando un ingresso importante anche Peter Brandt avverte di come dicembre sia sui mercati in generale un momento molto molto delicato sul quale fare del trading e nel quale affidarsi a determinate letture di pattern o letture che vengono da analisi tecnica infatti alcuni breakout che avvengono in questo periodo potrebbero essere breakout dovuti anche dalla poca liquidità e quindi proprio dal periodo natalizio dal periodo festivo di trading e quindi dei falsi breakout attenzione a questi aspetti soprattutto per tutti i trader all'ascolto non prendiamo dei segnali in questo momento questo potrebbe essere la sintesi se dovessimo andare a vedere un'analisi macro vedremo che anche i mercati sono in discreta ripresa oltre che bitcoin e questo è accompagnato come spesso avviene dalla controtendenza sul dollar currency index di XY che sta vedendo un piccolo ritracciamento quindi il dollaro si sta un pochino indebolendo rispetto alla crescita importante che c'era stata nell'ultimo periodo questo porta un rialzo nel mercato azionario e anche per bitcoin in questo momento qui anche l'indice paura e avidità è tornato a salire in questo momento ci troviamo a un livello di paura sempre in paura ma a livello 40 quindi siamo tornati a essere un po' più fiduciosi a mio modo di vedere questo indicatore qui quello del sentiment è uno dei migliori per chi fa un piano d'accumulo costante in quanto molto spesso quando ci siamo trovati su situazioni di estrema paura come ad esempio settimana scorsa chi va ad applicare il suo piano d'accumulo proprio in quei momenti solitamente ha sempre visto un ottimo momento per aumentare il suo posizionamento a un livello di paura 40 direi che siamo usciti da quella paura lì c'è proprio un simboleggiare di calma proprio perché siamo in un periodo particolare festivo con poca operatività in ogni caso come ci ricorda anche Samson Mao qui un account twitter abbastanza seguito bitcoin solitamente ci va a stupire proprio quando meno lo si aspetta e rituita un suo vecchio tweet in cui scriveva ci sono voluti 22 giorni per bitcoin per passare da 20.000 a 40.000 dollari questo è avvenuto praticamente un anno fa esatto e a questo punto ci potremmo aspettare un periodo ancora più veloce per passare dai 50.000 ai 100.000 dollari non ci sarebbe da stupirsi per quanto riguarda bitcoin chissà è tutto da osservare ovviamente intanto una notizia sulla quale volevo comunque mettere il focus che è arrivata settimana scorsa è la presa di posizione da parte di Jack Dorsey che sappiamo essere uscito ad aver lasciato la posizione di CEO di twitter per dedicarsi al mondo bitcoin prevalentemente con la sua altra azienda infatti lui è anche CEO dell'azienda Square anch'essa quotata in borsa fa un attacco diretto alle venture capital e al cosiddetto web 3 per come lo si sta definendo in questo momento infatti la sua denuncia è quella di esplicitare di come i fondi di investimento come venture capital e angel investors che vanno a supportare i business in fase iniziale poi diventano molto pesanti in quanto sono obbligati a seguire determinate regolamentazioni e portano i progetti l'ecosistema verso quel tipo di regolamentazioni che va a compromettere la decentralizzazione nonché anche la velocità di sviluppo dei determinati progetti aggiungerei io inoltre nel seguito di questa discussione qualcuno gli chiede se il bitcoin ne ripiazzerà mai il dollaro e lui risponde bitcoin will bitcoin lo farà quindi sia vi sì che limited partnerships secondo Jack possiedono veramente il web 3 non lo possediamo noi e questo è in antitesi con quello che invece sta costruendo con la decentralizzazione tutti i sistemi che ci vogliono portare ad essere i veri proprietari del web senza nessun know your customer senza centralizzazione del servizio e invece queste due direzioni sono in un momento abbastanza critico c'è un crocevia importante soprattutto per quello che stiamo vedendo ad esempio nel concetto di metaverso sviluppato da un'azienda che centralizza molto il concetto rispetto a quello che si vuole costruire nel mondo cripto e la redistribuzione della proprietà di alcuni metaversi o nella partecipazione ad essi siamo al finale dell'anno quindi è anche un momento di resoconti anche Cointelegraph fa un articolo su quale sono state le crypto winners e losers del 2021 ce ne dice qualcuna top 3 gainers dogecoin solana e terra luna ovviamente tra quelle che sono cresciute di più qui è più che altro l'analisi economica quindi prende in considerazione la crescita che c'è stata rispetto al prezzo di partenza inizio anno gennaio del 2021 e poi invece le 3 top losers quelle che hanno perso di più durante l'anno tra cui icp ios e monero queste sono quelle che hanno avuto una discesa maggiore da quando sono state listate o comunque da gennaio 2021 infatti icp non esisteva nel primo gennaio dell'anno scorso è arrivata a maggio e poi c'è stata una decrescita che gli ha fatto perdere fino al 96% ma come detto questa è una considerazione solamente economica quindi in base ai numeri che ha fatto proprio la moneta stessa nella scorsa live avenger su coinsquare dicevo di come secondo me il progetto dell'anno era stato polygon ovviamente io non prendevo in considerazione solamente il prezzo sarebbe un'analisi abbastanza facile da fare vedere qual è stata la moneta che è salita di più se dovessi guardare solo il suo prezzo secondo me matic e polygon hanno fatto qualcosa di impressionante e per me è una scelta personale questo è il progetto da premiare tra l'altro l'ultima novità è quella di aver adottato uniswap adesso uniswap è utilizzabile anche su questa rete infatti nel menu a tendina in cui si può selezionare la rete di utilizzo oltre ai layer 2 già presenti optimism e arbitrum adesso troviamo anche polygon e c'è direttamente il link al bridge per poter portare diversi token o matic stesso e polygon scan che è la versione per tracciare per vedere tutte le transazioni sulla rete fork di etherscan molto interessante perché dopo il passaggio di dap come ave qui sopra adesso quella di uniswap v3 unica nel suo genere perché tutti gli altri dex voglio ricordare essere v2 con una distribuzione molto meno efficiente nella curva per quanto riguarda le liquidi di provider e tutta la liquidità questa qui questo è al momento il migliore exchange a livello di efficienza e con i costi e la scalabilità di polygon diventa veramente una macchina da guerra diventa un qualcosa di molto molto potente solo il tempo farà capire all'ecosistema quanto questo sia un cambiamento importante quindi vi ricorderete di queste parole con la scusa mi riallaccio a quella che sarà invece la prossima live che faremo su coinsquare che sarà mercoledì infatti mercoledì 29 dicembre ore 18 e 30 faremo una nuova live andando ad analizzare quali sono state le top crypto del 2021 secondo voi perché nell'ultimo episodio abbiamo detto la nostra ma vogliamo anche vedere il riscontro della community quindi ho già fatto partire un sondaggio l'ho messo nel gruppo coinsquare trovate comunque il link al gruppo e alla pagina coinsquare direttamente in descrizione l'ho avviato da pochissimo solo da un'ora già ci sono un bel po' di risposte questa è una lista ampliabile quindi si può aggiungere le monete che magari non sono state scritte inizialmente da me e qui cominciano già ad essere votate tra cui 7 totodi sono già andati a luna 54 a crypto.com che infatti è stata una di quelle più domandate più richieste proprio durante la scorsa live e a questo punto arriva anche un allaccio a quello che è successo proprio a Natale dove la vecchia arena dove giocano i Lakers di Los Angeles diventa crypto.com arena e questo è un passaggio abbastanza epico fa veramente impressione vedere queste immagini con i giocatori che appunto calpestano questo tipo di campo e crypto.com che è sotto gli occhi di tutti credo che adesso anche chi non aveva la minima idea di cosa fossero le crypto se questo fosse un settore legit fosse un qualcosa di dubbio di fumoso di fumoso adesso comincia ad essere abbastanza sotto gli occhi di tutti anche grazie alle operazioni di marketing di questa azienda che si sta piazzando tra le leader del settore qui fanno vedere anche come sono state aggiunte appunto le nuove pavimentazioni con il logo all'interno qualcosa veramente impressionante non avrei mai detto un anno fa di vedere queste immagini a distanza di solo un anno questa è veramente una rivoluzione importante e forse tutti noi non ce ne stiamo davvero rendendo conto vi invito quindi a votare su questo sondaggio per raggiungere le vostre opzioni perché poi le vediamo mercoledì passo un attimo a Metaswap è arrivato per Metaswap una proposal la prima proposal ne ho parlato nello scorso video infatti nella settimana scorsa ho parlato appunto di come vogliamo andare a sviluppare determinate soluzioni e nelle proposal c'è proprio il passaggio verso la multichain ossia muovere il contesto del token su delle reti più efficienti e meno costose a partire con la Binance Smart Chain ma anche con l'idea futura poi di poter muovere l'infrastruttura su una rete più scalabile come ad esempio Polygon i dettagli sono nel link che lascio in descrizione questa proposal sarà votabile a partire proprio da mercoledì 27 quindi da mercoledì 27 si può votare se si raggiungerà il quorum si andrà poi ad approvare e ci sarà questa implementazione breve mention anche per The Cryptonomist che va a rilasciare la terza edizione del NFT magazine le altre due sono andate completamente sold out questa arriverà tra sei giorni quindi domenica 2 gennaio il giorno prima del mio prossimo Crypto Monday quindi faccio in questo momento il reminder per chi fosse interessato è una idea di magazine completamente tokenizzato in NFT e quindi collezionabile dove ogni cover può essere considerata una vera opera perché è unica qui c'è qualche anteprima di quello che si troverà in questa edizione per saperne di più lascio anche qui il link in descrizione e c'è l'email alla quale appunto iscriversi per poter partecipare a questo drop che avverrà su OpenSea il richiamo quindi è alla puntata di mercoledì ne parleremo tutti insieme e oltre a questo andremo anche a cominciare a discutere su chi scommettere per il 2022 in realtà per questo vorrò fare anche un altro sondaggio che avvierò cosicché possiamo discutere anche su questo perché sono due cose diverse una è quella che ci ha impressionato di più per quest'anno e chi su quale progetto scommettere o su quale ecosistema scommettere per il 2022 è sempre un sondaggio molto molto interessante sul quale si può costruire poi un'analisi inoltre voglio ricordare che abbiamo avviato CoinSchool tramite delle classi con 25 persone al momento ne abbiamo fatta solamente una vuole colmare quel vuoto che c'è tra chi si è appena avvicinato a questo settore ha cominciato a muovere i suoi primi passi e chi è un esperto in DeFi sa costruire le sue strategie e sa muoversi ovunque ecco per fare quel passaggio da exchange centralizzato a movimenti in DeFi pura con il proprio wallet metamask bridging staking liquidity providing e strategie per portare il proprio compounding al massimo livello c'è un bel gap cerchiamo di riempirlo in questo modo con delle classi molto intime molto private le informazioni trovate direttamente su coinsquare.com coinschool e per poter partecipare al momento siccome è molto ristretta ci saranno solo 25 studenti nella nuova classe che andremo a creare si può inviare una candidatura quindi se si è interessati questi sono i dettagli con due lezioni live mensili più un gruppo dedicato telegram esclusivo alla classe poi anche il ruolo su coinschool di discord e l'accesso alla lezione registrata che verrà fornito direttamente a tutti gli alunni basterebbe inviare la propria candidatura rispondere a delle semplici domande per cercare di capire se riusciamo a costruire una classe che sia allineata il più possibile ovviamente le lezioni saranno fatte con me e con Filippo Angeloni quindi vi lascio il link direttamente in descrizione ci vediamo mercoledì per la live e ci vediamo lunedì prossimo per il Crypto Monday buone feste a tutti a tutti Grazie a tutti.